A Cosenza, dopo il collocamento in concedo del luogotenente Cosimo Saponangelo, si è insediato ed assunto il comando della stazione Carabinieri di Cosenza principale, che ha sede nella storica caserma a Grippo, il luogotenente Antonio Giovanni Pantano. Il neocomandante, 57 anni, originario di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro, è sposato con due figli e ha frequentato il corso regolare di sotto ufficiale dell'arma prima presso la scuola Maresciagli e Brigadieri di Belletri e poi presso quella di Firenze. Un curriculum di tutto rispetto, quello del luogotenente Pantano, che ha segnato la carriera del sotto ufficiale dell'arma. Infatti ha comandato il nucleo operativo della compagnia di Lugliano, le stazioni di Scigliano, di Gizzeria Lido, di Acri, di Montaltufugo e per ultima quella di San Giovanni in Fiore, partecipando a missioni di pace umanitaria sotto l'emblema del MSU KFOR Pristina nel Kosovo, per il quale è stato decorato con la croce commemorativa per il mantenimento della pace.